La Pialassa Baiona è una zona umida di 1800 ettari nel comune di Ravenna, tra il fiume Lamone, la via Baiona, il porto del canale Candiano e il mare, caratterizzata da un bacino lagunare di acqua salmastra, con limitati apporti di acqua dolce. I fondali vanno da un metro a quattro, a caratterizzare l'area specchi d'acqua aperti, che si alternano a canali artificiali e dossi, mentre a popolare questa zona tutelata sono avocette, cavolieri d'Italia, mignattini piombati, garzette e fenicotteri, trassalicornie e tamerici. Un ecosistema prezioso caratterizzato anche da un pezzo di storia locale, i capanni da pesca con i tradizionali padelloni. Il nome Pialassa deriva probabilmente dal caratteristico sistema dinamico che caratterizza le lagune, influenzato dai livelli di marea. L'invaso riceve, piglia, l'acqua marina per due volte al giorno durante l'alta marea, per poi ricederla, lascia, per altrettante volte durante la bassa. La Pialassa Baiona fa parte del Parco del Delta del Po ed è l'unico esempio di laguna del litorale Emiliano-Romagnolo che dipenda dalle maree, oltre a costituire la laguna di maggiore rilevanza dal punto di vista naturalistico.